Oggi sul molo di Lerici a Calata Mazzini è stata scoperta una targa a ricordo di un evento che è accaduto durante la seconda guerra mondiale, quale? Sì, abbiamo voluto mettere un ricordo stabile, materiale, di quello che è il ricordo che abbiamo nelle menti, che hanno nelle menti tanti lericini e che ci è stato tramandato come un momento di dolore e di sofferenza perché ha colpito nel cuore la città di Lerici, qui siamo proprio nel centro storico, la demolizione di queste case, tante case, per fare posto ad un'area dove le truppe tedesche di occupazione potessero scaricare le merci, le attrezzature, dato che il porto di Spezia era sotto costante bombardamento. È qualcosa di importante, i lericini tengono la loro storia, l'erici ha una storia fatta di episodi come questi ma anche una grande storia va ricordata e l'impegno dell'amministrazione è quello di portare avanti una politica proprio di valorizzazione della storia. Successivamente all'inaugurazione della targa una conferenza proprio in memoria dell'evento. Nell'agosto del 1944 ci sono alcuni fatti importanti, i tedeschi minano dapprima tutto il lungomare di Lerici, praticamente dall'inizio di via Roma sino qua a piazza Garibaldi e poi successivamente minano questa parte del molo. Perché? Per quale motivo? Perché serviva questa parte del molo per le operazioni di sbarco di mezzi tedeschi per approvvigionamenti sia di materiali bellici sia di materiali invece di sostentamento. E quindi non potendo utilizzare il porto della Spezia, che era un porto che era stato lungamente bombardato e quindi in una situazione di estremo disagio, preferiscono scegliere queste banchine. La banchina di Lerici o la banchina di Porto Venere? Le case di entrambe le due banchine dovevano saltare, quindi non soltanto queste case di Lerici ma anche le case di Porto Venere. Poi per motivi legati a una situazione particolare la banchina di Porto Venere non salterà. Le case di Lerici salteranno il 28 settembre del 1944. Quindi un numero notevole di case perché sono tre fila di case che coinvolgevano perlomeno 35 edifici di tre o quattro piani. E quindi facendo il conto il numero di persone interessate poteva girarsi sui 400.